Buongiorno, buon sabato, benvenuti a questa rassegna stampa occhio ai giornali. Tutte le mattine, dal lunedì al sabato, sfogliamo insieme a voi le pagine principali dei quotidiani in edizione locale, il resto del Carlino è Corriere Adriatico. Naturalmente vi proponiamo le notizie più in evidenza, come sempre facciamo, e salutiamo anche coloro che ci seguono non solo davanti alla televisione di casa, ma davanti ai loro supporti informatici come telefonini, tablet e smartphone. E allora guardiamo però anche il calendario, guardiamo oggi, oggi è un giorno particolare, 29 febbraio, un giorno che viene ogni 4 anni, e io lo so bene. La Chiesa ricorda Sant'Augusto Martire, il sole è sorto alle 6.45 e tramonterà alle 17.56. Vediamo le previsioni del tempo, che cosa ci propone la protezione civile delle Marche e il suo servizio meteo. Per oggi sabato il cielo, vedete, è poco nuvoloso, transito di velature, qualche addensamento più consistente, però come potete vedere dalla grafica, sui rilievi. Quindi siccome le temperature sono un po' in diminuzione, ma nelle minima, in aumento, nelle massime, senza nessuna precipitazione, compare però la simbologia delle possibili gelate nei fondovalli, a fondo valle, specialmente quelli interni, nelle ore serali o nelle prime ore del mattino. Anche per quanto riguarda domenica, tutto sommato la previsione del tempo non cambia molto, se non che compare un po', insomma, è la simbologia della pioggia, a carattere sparso, ma principalmente sul Criana Peninico, sulla costa, vedete, c'è un'intensificazione della nuvolosità, però gli fenomeni piovosi saranno in esaurimento nel resto della giornata. Compare il limite delle nevicate, nevicate attorno ai 1.800 e 1.900 metri, quindi fiocchi di neve nella giornata di domenica, le temperature saranno in aumento, in particolare però nei valori minimi. Vediamo lunedì, lunedì invece l'evoluzione è al peggio perché il cielo diventa nuvoloso, molto nuvoloso a partire dal pomeriggio e compaiono anche le precipitazioni piovose sulla costa in maniera anche intensa. E questo è, insomma, ecco, adesso andiamo subito nei giornali, c'è da dire che la notizia del giorno è che, ahimè, sono aumentati i casi nelle Marche, ce ne sono altri 5, noi nella edizione del telegiornale delle 20 e 30 vi avevamo dato nei titoli anche una situazione invariata, quindi eravamo rimasti a 6, ma questo perché purtroppo il Gores, il gruppo operativo regionale per le emergenze sanitarie, ha emesso il suo bollettino quotidiano purtroppo dopo le 20 e 30, quando noi siamo andati in onda e quindi non abbiamo fatto a tempo ad aggiornare il titolo, ma nel pezzo dicevamo comunque che sapevamo che c'erano alcuni tamponi in analisi al Torrete di Ancona proprio per valutare altre possibilità e ahimè purtroppo così è stato, ce ne sono altri 5 positivi, il comunicato del Gores è arrivato alle 8.45 quindi non abbiamo fatto a tempo a inserirlo nel nostro telegiornale. Questo è 11 casi e soprattutto il fatto così rilevabile è che sono tutti nella provincia di Pesero e Urbino. E allora guardiamo le pagine dei giornali e si parla appunto del governo, del braccio di ferro tra Ceriscioli e il governo centrale, il governo ora ha scoperto le marche, esultano post-sisma, treni e aeree. Il ministro Boccia rincara la dose ma l'agenda di Roma resta vuota di aiuti per la regione. E poi Mastro Vincenzo a riguardo della competizione elettorale per quanto riguarda le elezioni regionali, Mastro Vincenzo io fuori dal coro sto con Longhi e con Zingaretti, quindi esprime il suo parele a questo riguardo. Mastro Vincenzo, Meteorite, l'episodio del giorno al di fuori del coronavirus è questo, ha fatto un po' il giro d'Italia, il filmato che abbiamo pubblicato sul nostro sito, ripreso da tantissimi siti, da tantissime testate giornalistiche, esplode sul mare caduto davanti a Gimarra, il fenomeno è stato visibile in mezzo Italia e anche, pensate, dalla Croazia. Poi l'azienda leader nell'alluminio Profil Glass, 80 milioni di euro di finanziamenti e 200 assunzioni, questi sono i titoli e anche qui in tutta la regione tamponi positivi, l'ombra del contagio, ora il pesarese trema ma il liceo scientifico resterà chiuso e adesso guardiamo anche i titoli del resto del carlino di Pesaro che appunto l'apertura la dedica agli altri contagi, il bilancio sale a 11, sanitari anche in isolamento. Sì perché l'altra notizia è che ci sono 94 persone in quarantena e alcuni di questi sono anche operatori sanitari che nelle prime ore della diffusione del virus sono entrati in contatto con le persone e che quindi non si sapeva ancora chi ahimè si aveva di fronte, quindi sono andati un po' come operano tutti i giorni senza appunto avere le precauzioni che si stanno adoperando in questi giorni, essendo appunto i sintomi del coronavirus molto sovrapponibili a quelli dell'influenza e quindi possono ingannare. regionali Manginelli ora appoggia Mangialardi, ora tocca a Ricci e quindi c'è anche politica nelle pagine dei giornali perché comunque le regionali incalzano. Ed eccolo qua il titolo del Corriere Adriatico, altri cinque tamponi positivi, così i contagiati salgono a 11 ore, si aspettano però le controprove che dovranno arrivare da Roma e quindi per avere una certezza provata bisognerà aspettare il secondo check. però insomma quasi sempre il secondo ha confermato l'esito del primo. 11 contagiati quindi anche altri studenti e 20 operatori come vi dicevo sanitari in isolamento e quindi ci sarebbe appunto anche personale ospedaliero del Dipartamento di Emergenza Urgenza, quindi proprio quelli del pronto soccorso che sono appunto in prima linea. ed ecco perché come vi abbiamo mostrato anche ieri nel nostro telegiornale c'è stato proprio l'allestimento di un pre pronto soccorso, chiamiamolo così, pre triage, per valutare appunto le persone che arrivano di propria sponte a piedi con i propri mezzi, non passando attraverso il 118, al pronto soccorso, accendono al pronto soccorso per non mescolarli con gli altri pazienti, chiaramente pazienti che hanno non la caviglia storta, ma coloro che hanno sintomi respiratori, patologie respiratorie, quindi raffreddore, tosse, febbre, ecco vengono convogliati in un altro triage a parte e poi valutati. Questa è una misura che deve rassicurare molto tutti quanti, ecco non vuol dire che siamo in una situazione di allarme, di emergenza, è una precauzione che viene fatta proprio per la salvaguardia, non solo degli operatori sanitari ma anche di tutti gli altri pazienti, quindi siamo, come si dice, sulla strada giusta. Continuiamo a vedere le pagine dei giornali, non è un focolaio, quello del Pesarese, ma un contagio diffuso e da chi viene da fuori, quindi non abbiamo un focolaio nostro, non c'è un focolaio pesarese, sono tutti contagi che hanno un link, un contatto con l'esterno della regione e della provincia. Torrette, si parla anche dei posti letto che sono a disposizione, a Torrette 13 posti letto e un percorso tutto dedicato, appunto vedete operatori sanitari che ora sono assettati per fronteggiare questo tipo di patologia. Virologia è il nostro hub, appunto dove virologia a Torrette, dove qui siamo tutti vergine all'ospedale di Torrette, arrivano da ogni provincia i campioni, provincia delle Marche, logicamente i campioni che devono essere analizzati per sapere se c'è l'infezione e questi nuovi cinque casi provengono proprio da qui, insomma, dalla virologia del Torrette, dopo il secondo cecchio invece viene fatto a Roma, all'Istituto Superiore di Sanità e quindi c'è a quello che si dice appunto la controprova. Ma ci sono anche le buone notizie e questa ne è una, il sedicenne di Morciano, lo studente del liceo scientifico di Pesaro sta bene a casa, quindi c'è stato detto così, a casa però è naturalmente in isolamento, in quarantena, ma la quarantena riguarda purtroppo anche 24 compagni di classe e attenzione su due insegnanti che hanno avuto contatti con lo studente in questi giorni. Sì perché il problema è questo, il coronavirus è poco più, ormai lo sappiamo, ce ne hanno dette, sappiamo più di coronavirus che di quello che abbiamo attorno a casa, non è un'infezione particolarmente grave, poco più di un'influenza, la mortalità è bassa, è l'1-2%, quindi non si muore sicuramente, ma è tutto il corollario di cose che si porta dietro, che è sicuramente impegnativo perché se ti trovano un tampone positivo, tocca stassene in quarantena e quindi è questa la difficoltà, il problema che sta creando questa infezione che blocca tutti e anche tutto. Scientifico quindi in quarantena, lezioni sospese fino a mercoledì, il positivo al coronavirus però è guarito, come vedete, quindi questo è il decorso normale della malattia, però ecco la conseguenza è questa, un liceo, una intera scuola in maniera categolativa è in quarantena. Compagni di classe e insegnante staranno in isolamento per 14 giorni, appunto questo è quello che dicevo come conseguenza. Vi faccio vedere le due pagine, ve le faccio vedere insieme, eccole qua, del Corriere Adriatico perché anche la politica sta prendendo posizione su questa cosa, si dice appunto noi dimenticati, le marche non sono state pensate per niente fino adesso dal governo e invece adesso tutti quanti parlano delle marche e ci vogliono mettere appunto il naso, aprite, chiudete, insomma ecco quindi questo per rincarare appunto quello che è accaduto come pagina della politica per quello che riguarda il braccio di ferro tra la regione Marche e il governo centrale. Ritorno alla normalità, c'è anche tanta voglia di ritornare alla normalità, lo dicono le attività commerciali, lo dice tutto il comparto economico, però bisogna, alla mezzanotte di oggi scade appunto l'ordinanza ma restano in vigore le precauzioni, quindi insomma si cerca di tornare il più possibile alla normalità pur con le difficoltà di quello che è il decalogo che è stato emanato per affrontare questo periodo, che vale sempre anche se si riaprono le scuole. E appunto dicevamo l'altra faccia e quello che si porta dietro il coronavirus è questo, sommersi dalle disdette, settore del turismo e del commercio in grosso affanno proprio perché la gente è un po' presa da questa paura di non essere contagiati perché magari non ha paura di prendersi il raffreddore o l'influenza normale perché sa qual è il percorso che l'aspetta, qui invece c'è un po' di fobia che si è scatenata, abbiamo visto anche cosa è successo ai supermercati e l'altra faccia del coronavirus è questo, il rebound economico sulla nostra vita quotidiana. Poi le politiche, appunto, io mi fido di Zingaretti, solo il candidato civico, unità di centro-sinistra parla Mastro Vincenzo, il presidente del consiglio regionale con il leader del partito Zingaretti quindi prove di candidati e quindi è spuntato fuori il nome di Mangialardi nella giornata di ieri che ha ricevuto così il lancio in avanti, il benestare di Ceriscioli che fa, come si dice, un passo indietro a favore del collega di partito Mangialardi, sindaco uscente di Senigallia anche la Mancinelli, appunto, su questo aspetto gli dà un bel sì, vai pure e quindi, insomma, adesso Mancinelli che si era tirata indietro perché aveva paura che la sua candidatura spaccasse la coalizione, spaccasse il partito invece di cementarlo e quindi ha detto io mi tiro fuori, vedetevela voi tra Ceriscioli e compagnia cantante e quindi adesso però con Mangialardi che sembrerebbe aver unito, compattato il partito democratico ma non la coalizione di centro-sinistra che invece spinge tutta la coalizione, quindi gli altri che non sono del PD per un candidato civico, in questo caso l'ex rettore dell'Università Politecnica delle Marche Longhi e quindi anche qui, insomma, i giochi sono abbastanza sfumati però perlomeno in casa PD si è capito che Mangialardi potrebbe essere il candidato che mette tutti d'accordo parliamo di altro, andiamo ad aprire le pagine di Fano alla Profiglass prestito da 80 milioni di euro e programmate per questo anche 200 assunzioni un pool di Banket con Unicredit in capofila finanzia investimenti produttivi dell'azienda di Bellocchi che vedete, ecco, questa è una foto dal lato, tutta l'estensione dello stabilimento della Proviglass leader nei profilati in alluminio a livello nazionale e internazionale un'eccellenza territoriale e una risorsa sicuramente per il territorio il bolide di Fano direi che non ci stiamo facendo mancare niente se mi consentite la battuta meteoriti dal cielo, coronavirus, ci mancano che le cavallette che arrivano anche dall'Africa e poi abbiamo fatto tutto però insomma, al di là dell'aspetto e della battuta lo spettacolo è stato sicuramente sicuramente insomma bello da vedere, insomma, per chi l'ha visto come lui che abbiamo intervistato anche ieri Marco Zaffini che a Gimarra era lì per guardare le sue barche che ha guardato verso il cielo e si è visto questa cometa, come ha detto lui che si è vista passare davanti e questo è un fotogramma preso dalla telecamera di un automezzo pubblicato appunto da noi, da Fano TV, come dice il Corriere Adriatico che è stato ripreso da Mezz'Italia questa è la scia di gas lasciata dopo l'esplosione questo è il momento in cui il frammento di materia cosmica si dissolve per effetto del contatto con l'atmosfera nella pagina di Fano si parla anche di un prossimo appuntamento importante per l'amministrazione, il piano regionale previsti 5 nuovi hotel e c'è l'ostello al Sant'Arcangelo ecco qui la pagina del resto del Carlino che è anche qui dedicata alla palla di fuoco che precipita dal cielo e crea stupore in tutta la città anche qui vedete il momento esatto in cui esplode diciamo così, si vaporizza per effetto del contatto con l'atmosfera il sasso cosmico ma anche perché arrivano a velocità elevatissime 100.000 addirittura chilometri all'ora quindi insomma ecco è stato uno spettacolo della natura di giorno molto molto raro Pacassoni, si parla di carnevale fra un po' si tireranno le somme è previsto una conferenza stampa in cui la carnevalesca illustrerà un po' tutti i numeri di questa edizione 2020 nel frattempo però che questo avvenga Pacassoni dice che per il carnevale serve un progetto imprenditoriale serio e si parla appunto anche di politica e vedete anche qui nel resto del Carlino l'agriment della Mancinelli che lancia il suo collega io sto con Mangialardi e quindi insomma vedremo Mangialardi in cassa non solo l'ok di Ceriscioli ma quindi anche di una di quelle che era insomma sul piatto per il posto di governatore futuro governatore delle Marche Argin del Folle gli ha più sicuri siamo a Pesaro al via i lavori per 2,4 milioni di euro partiti anche interventi in altre zone della città di Pesaro come Torraccia e quindi ci sarà un po' di movimento terra in questo ambito il carnevale già lo abbiamo visto passiamo a Urbino si parla di gestione dei cimiteri che va a Urbino Servizi è stato rinnovato per 10 anni un canone annuo di 165 mila euro manutenzione quindi costante nei cimiteri cittadini però se per i cimiteri ci sono manutenzioni bisogna anche fare i conti con alcune criticità strade, mura, frane c'è un po' un elenco del degrado fatto qui nell'articolo del resto del Carlino e l'opposizione consigliare invia alla maggioranza tanto per dire ok guardate un po' a che cosa dovete mettere in mano il dettaglio di tutte le situazioni di abbandono degrado e dissesto del territorio l'esempio lampante appunto è questa qui tutta l'ex area della fornace Volponi che è un po' un biglietto da visita della città perché è proprio alle porte della città che giace in totale sfacelo e indifferenza dice il resto del Carlino a Urbino invece per quanto riguarda il Corriere Adriatico si va a Cannavaccio la viabilità improvvisata pericolo c'è noi lo diciamo da luglio lo dice appunto Mario Rosati di Viva Urbino che rincara la dose e dice per l'amministrazione la colpa è sempre degli altri ma il meccanismo è logoro quindi mano alla viabilità questo è quello che si vuole sottolineare si parla anche degli stupi di Rimini che sono stati all'attenzione nello scorso anno in media ma anche delle cronache nazionali la Cassazione ha depositato le motivazioni del no alle attenuanti richieste dalla difesa qui vedete il 3 settembre appunto le immagini di Butungu che viene portato in carcere dopo il suo arresto era uno dei protagonisti e risiedeva a Vallefoglia quindi consapevole e mai un pentimento questo è uno dei passaggi della sentenza della Cassazione dalla Val Metauro Isola del Piano patria del biologico in Italia la regione ora si impegna per la fattoria della legalità questa fattoria della legalità esempio a livello nazionale un manufatto strappato alla delinquenza insomma così alla mafia e quindi c'è stato fatto un bel esempio di come si possono restituire al territorio questi patrimoni strappati alle cosche e quindi insomma adesso ci si metterà le mani per riportarlo nuovamente a un buon livello blooming la creatività digitale andiamo a Pergola al via la selezione di uno studio e quindi vedete questo è un esempio riportato di una performance di una passata edizione del Festival Blooming un format che coniuga luoghi suggestivi a contenuti spettacolari sono attesi artisti da tutta Europa ecco qua l'area vasta 1 risponde allo stato del cortile della casa della salute che vedete qui siamo a Mondolfo sporcizia e abbandono anche questa è una situazione a cui bisogna mettereci mano e l'amministrazione dice la situazione è sotto controllo stiamo provvedendo le pagine di Senigallia le ultime che vi faccio vedere si parla di un luogo molto suggestivo il forno anonario le vetrate anti-crisi l'ex pescheria resterà sempre aperta raggiunta l'intesa tra Mangialaldi e il gruppo diritti al futuro garantito il libero accesso è un luogo il forno anonario di Senigallia dove ci sono anche tante manifestazioni durante l'estate un posto bello un po' il cuore della movida cittadina truffa di gas e luce nel resto del carlino si parla di questo due denunciati vanno ad attivare sette utenze e un inganno per un residente di Ostra Vetere scoperto il tutto però dai carabinieri vi faccio vedere le prime pagine questa è quella del Corriere Adriatico il governo ha scoperto le marche esustano post-sisma treni e aerei però la notizia è questa altri contagiati l'apertura del resto del carlino di Pesaro sanitari anche in isolamento il bilancio sale a 11 questo era per la rassegna stampa del 29 febbraio ultimo giorno del mese e quindi grazie per essere stati in nostra compagnia noi ci rivediamo lunedì mattina puntualmente qui alle ore 7 per la rassegna stampa questo è il numero che potete usare per entrare in contatto con la nostra redazione e poi lunedì sera il telegiornale Occhio la notizia alle 20 e 30 buon fine settimana a tutti voi arrivederci a tutti